Come andiamo ragazzi? Qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo ultimo episodio di Super Mario Bowser's Fury Signori siamo arrivati all'ultimo episodio, come vedete la furia di Bowser è leggermente cambiata I capelli sono diventati tipo grigiastri, bianchi, è diventato tipo Super Saiyan ultra istinto Questo gioco è un'eterna reference a Dragon Ball E direi che quest'ultimo episodio sarà quello in cui affronteremo Bowser's per l'ultima volta Mi ci butto proprio in mezzo, guarda, guarda che bello Aspetta che mi metto un power up a caso, giusto per non crepare di botte Ma mi sembra un po' esagitato oggi Bowser, che dite? Mi sembra particolarmente forte E questa mi pare che sia tra l'altro l'ultima fight in generale Che per ottenerla bisogna prendere tutti i solegati che abbiamo preso nello scorso episodio Prima di tuffarci nel fight vero e proprio vi ricordo che in descrizione trovate tutte le cose utili Quindi link per seguirmi anche live su Twitch, dato che vi trovate live tutti i giorni Eh, pensavo di missare il colpo così, vabbè, poco male E logicamente anche i link per acquistare il gioco La playlist per vedervi gli episodi precedenti se vi siete persi E cosette del genere Detto ciò, io vado a prendermi la campanella E vado a dare una lezione a questo Bowser che sta iniziando a diventare abbastanza molesto Soprattutto sperando di raggiungerla Oddio mio Tutto mi sarei aspettato tranne di Vedermi un Bowser qua così Bowser mi lasci in pace? Vorrei prenderti ammazzate Essendo questo l'ultimo Bowser non ti lascia in pace finché non lo sconfiggi probabilmente E noi siamo pronti per l'ultimo combattimento Contro Bowser's Fury Penso che i prossimi giorni inizierò anche Super Mario 3D World Quindi sarà sicuramente molto interessante E mentre siamo qua nel caricamento Domanda del giorno Ti è piaciuto questa specie di DLC di Super Mario 3D World? Ma c'ho le scintille! Non sapevo Non so se le abbiamo avute prima le scintille Però col fatto che Oh lui ha la vita blu tipo Non l'ha mai avuta la vita blu Ok è particolarmente arrabbiato Understandable Ti auguro una felice giornata Bowser Bowser lasciami in pace Ma non sei un po' tipo esasperato dalla vita? Ok Ma è velocissimo È super veloce Quanto lo fa questa mossa? Ah basta ha finito Ok Ah pochissima vita Questo fight finale sarà epico Io praticamente sono diventato Golden Freezer Lui è diventato Bo Come vi ho detto prima Goku ultra istinto Ma tipo Cosa sta facendo? Ok niente Fa le sue cose da Bowser Salta? Mi vieni incontro? Non lo so Toh Arrivo Ok Un po' di danni se li hai presi Non tantissimi però Quanto basta Dai Vabbè Eh vabbè Più lontano no eh Cosa fai? Oh Ok Si può prendere anche quella Per tirargliela Però non è Quello che mi interessa fare ora Mmm Ah mi ha preso Pensavo di evitarlo all'ultimo Salta verso di me eh Credo Non lo so Vediamo Eh si Viene qua Ok ci siamo Boom Musica Vabbè Eccezionale Come tutte le altre volte Oh oh Eccolo qua Rifà le sue mosse Ok perfetto Questo è il grosso vantaggio Di quando lancia sti cosi Che li puoi usare ovviamente Contro di lui Ok Perfetto Oh l'ho missato Peccato Ok Perfetto Madonna ma quanto le sta prendendo Stai zitto Non interessa a nessuno Ok Ok Ce n'è altri in zona Ma ci sono questi Ma non so se faccio in tempo A prenderlo Si Povero Bowser Ci ha provato in tutti i modi Ci ha provato in tutti i modi Ma noi Siamo più forti Fine Direi Direi sia lo scontro finale Vediamo se c'è di nuovo lo scontro Complessi gigante Non penso avrebbe senso Comunque L'abbiamo già sconfitto una volta Così E invece mi sa proprio che Oh No I capelli bianchi Comunque stupendi Si comunque diventa gigante Di nuovo Ok ci facciamo lo scontro Anche complessi E direi che questa sia l'ultima volta Bowser eh Questa è l'ultima volta Che ci affrontiamo Per adesso Ci sarà anche Super Mario 3D World Va che epico Con le sue 3 giga campane Rasengan Che È tipo una citazione Tonks questa Secondo me Ok Ok Siamo arrivati Scontro finale Beh Let's go Penso che sarà un po' più difficile Rispetto alle altre volte Ok ma perché mi sgancio così Perché mi viene da sganciarmi Ah iniziamo subito cattivi Ok A me sta bene Va bene Va bene Qual è il problema Non c'è problema Puoi colmirmi tutte le volte che vuoi Bowser Ok magari non esageriamo Guarda come li evitiamo Eh però è scomodo Perché si muove di più Si muove molto di più Quanto si muove effettivamente Non mi ha ancora dato neanche una possibilità Di colpirlo Forse perché mi colpisce lui Credo Non saprei Va bene Skrrr Madonna Cosa abbiamo fatto Si penso che a sto punto il problema sia che mi faccio colpire Ma guardalo quanto scappa Boom Uno Godurioso come sempre Come la prima volta che l'abbiamo fatto Eccolo qua Eccolo qua Uh Quello era bello eh Ma guarda Arriva proprio una flotta È proprio una flotta di Di roba quella che mi tira addosso Ma Plessi dove è finito Plessi Fratm dove sei finito Ma che Ma si è dato la fuga Va bene Lo scontro finale con Bowser È strano però Ci sta eh Però è un po' lungo Eccoli Opla Due Devo scendere? Si Madonna Eccolo qua Ultimo No ancora Ce n'è ancora Quante volte dovevo colpirlo ancora? Oh eccolo qua Quattro Cambia anche il colore del cielo Cambia tutto in questo fight finale Tranne il fatto che Plessi diventa gigante Inquietante Inquietante No vabbè Bello come la prima volta Bellissimo Qualcuno da Nintendo Ha proposto E hanno accettato St'idea Geniale Geniale Ma Ma chi l'ha avuta St'idea? Clamorosa Ed ecco ovviamente Anche il sole gatto Un po' vero però E mo' direi che sia il vero 100% Cosa ci danno come premio? Il quadro finale? Fanno vedere cosa contiene? E mi sa proprio di se Un po' preso male tipo Ma penso che sia la stessa cutscene uguale a quella di prima Sì 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 Dai è simpatica Ci sta I monti dietro Mi ricordano quelli del film di Mewtwo Dove scappò Ok Ok Va bene Bowser Junior Va bene Ed ecco anche qua i gatti Ci stava Ci stava Ci stava Mi ricordano che sia la stessa cutscene uguale a quella di prima E la stessa cutscene uguale a quella di prima E la stessa cutscene uguale a quella di prima E la stessa cutscene uguale a quella di prima Zeit luguale a quella di prima E la stessa cutscene uguale a quella di prima Qui c'è la stessa cutscene uguale a quella shot Mi ricordano che è pieno uguale a questa cutscene uguale a quella di prima Un po' preso male Una stessa cutscene ugualed يا Grazie a tutti Ok, eccoci tornati dopo i titoli di coda Insomma, il vantaggio di finire il gioco al 100% Corrisponde nell'avere il dipinto di Bowser Jr. Alla fine dei titoli di coda Lo stesso dipinto che in realtà era oscurato se il gioco non era finito E' questo bellissimo power up di Mario Gatto Che in realtà adesso si trasforma sempre e costantemente Con la campanella Nella variante teoricamente leone suppongo Cioè come l'abbiamo definito all'inizio O Super Saiyan, che dir si voglia Ma anche Bowser Jr. qua come vedete E' in modalità Gatto Ovvero la stessa cosa che vediamo nel dipinto finale Insomma, a me non dispiace Non ho ben capito se alla fine Bowser La furia di Bowser non spawnerà più Mi è perso di capire di sì Che appunto non spawnerà più E invece no, pare proprio che stia per uscire Ah, quindi il gioco potrebbe effettivamente proseguire comunque Quindi noi possiamo affrontare un numero infinito di volte Comunque la furia di Bowser Semplicemente ci mette un po' di più a spawnare Rispetto alle altre volte Ok, questa cosa è carina Anche se obiettivamente non c'è più reale motivo di giocare a questo titolo Dopo che lo finisci al 100% Però è bellissimo il fatto che siamo Super Saiyan Guarda che roba Ci starebbe anche un bello screenshot da fare Sarebbe davvero tanto Così Ebbene sì, si può spammare anche la modalità screenshot Comunque ragazzi, questo era il nostro let's play Per quanto riguarda Bowser's Fury Vi aspetto i prossimi giorni per giocare a 3D World Ovviamente al 100% Sempre qua su YouTube Perché comunque su Twitch l'abbiamo già giocato Vabbè, abbiamo anche giocato con Gravier, Flake e Poké Tonks E niente, grazie di avermi seguito È stato veramente un piacere portarvi questo let's play al 100% Ci vediamo ai prossimi giorni con il nuovissimo Domanda del giorno Tutti i link utili nei commenti E io vi aspetto Alla prossima Ciao ciao